Buonasera a tutti i cittadini di Verbicaro. Vi voglio comunicare che mi è stato riferito questa sera che anch'io sono positivo al Covid. Questa variante che si sta allargando è arrivata anche da me. Bene, io per il momento sto bene, al di là di un po' di nausea. Vi voglio tranquillizzare senza allarmismi. Il Comune sarà sanificato. Valuteremo i contatti a lungo termine che ci sono stati in questi ultimi giorni. L'ASP e la Polizia Municipale sicuramente si attiveranno e metteranno in quarantena. Quindi è successo a tanti sindaci. È successo ai Presidenti della Repubblica, a Carciatore, a uomini di tutto il mondo. È io mi sarò sempre vicino. Stasera ero felicissimo perché mi ero sentito con il responsabile del centro di vaccinazione dell'ASP Giovanni Iguaragna. Mi aveva confermato che il giorno avendo c'era un altro Open Day a Verbicaro. Voi sapete tutto che io ho cercato di essere sempre presente, di fare il possibile per tutelare i cittadini di Verbicaro e del territorio dove è stato possibile. Ci siamo fatti sentire con l'ASP. L'ASP quando è stato possibile ha collaborato con noi e noi abbiamo collaborato con l'ASP. Purtroppo questa variante sudafricana, l'omicron, è talmente contagiosa. I virologi lo definiscono il virus più contagioso, la variante più contagiosa di tutte le epoche.